Ciao ragazzi, sono Asia. Allora, oggi andremo a fare un tutorial insieme, però prima di iniziare volevo ringraziarvi perché abbiamo raggiunto quasi le 40 visualizzazioni e essendoci iscritte ieri sera per me è già un record, per me è Giulia. Vi invito a iscrivervi al canale, noi due insomma ci mettiamo dell'impegno nel fare questi video e speriamo che siano di vostro gradimento, vi possono aiutare, ispirare, insomma stiamo iniziando con video abbastanza semplici anche perché noi siamo un po' alle prime armi. Se avete bisogno di tutorial, di consigli, potete domandarci tutto nei commenti qui sotto e non avremo problemi a rispondervi. Allora, iniziamo con il mio video, andremo a realizzare una girella come questa, vedete, semplicissima, ok? E quindi ci serviranno un unico colore di pasta e il nostro amico cutter. Allora, facciamo una pallina con i colori di pasta, io ne andrò a fare due perché ci devo fare degli alchini. Dopodiché tagliamo a metà la nostra pallina e otteniamo due parti uguali. Con ogni pasta per te facciamo un sorsicciotto, molto molto sottile. Se avete preso tanta pasta come me, potete anche fare, vabbè, se è sorsicciotto molto sottile, no? Dopodiché tagliate le estremità piatte. Vedete l'espessore deve essere più o meno questo. Questo è in confrante alla mia mano, se ce la faccio in quadrarvelo, ok? E sono circa 2-3 mm, o meno. Dopodiché, siccome ho preso troppa pasta, vado a piegare, vedete, in questo modo a metà, tiro e taglio a metà dalla parte posta. Dopodiché ne prendo uno dei due e con l'aiuto del dito, giusto? Vedete che faccio, ecco così, vado a schiacciare cercare, cercando di mantenere una linea dritta. Quindi non andare a zigzag. Ok? Dopodiché andiamo ad alzare il frisciolino, e in questo modo con le dita, così, vedete, lo prendo e tiro. Vado a dargli una forma, appunto, più regolare. Dove vediamo che è troppo larga, possiamo andare a tagliarla anche con il frisciolino, ok? Poi tagliamo le due estremità, così, e iniziamo ad avvolgerla. Allora, vediamo, così, forse così riuscite a vedere meglio. Vedete? Ce la può fare, ma... ma metto poco. Ok. E l'avvolgiamo, fino ad ottenere la gran grandezza desiderata. Ok? In questo modo. Dopodiché tagliamo l'eccesso che, insomma, non ci serve, e questa è la girella. Questa si vede. Comunque è praticamente identica con la cotta, hai fatto vedere con la cotta del... si vede meglio. Dopo facciamo anche l'altra. Inseriamo un gancettino fatto, o fatto da voi, o comunque anche comprato, col filo di ferro, e queste sono le nostre girelline terminate. Poi, voi potete fare quello che volete, per esempio, su questa, io ho messo, ecco, questo cuoricino, potete mettere fiocchettini, quadrifogli, fette di cane, quello che più vi piace. Spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile, come al solito, è un tutorial molto semplice. Un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!